Il 22 luglio 2024, il gruppo Mondadori ha annunciato l'acquisizione del 51% di Waimea SRL, la società che gestisce i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell'immagine di Benedetta Rossi, celebre food blogger e autrice di libri di cucina. L'operazione, valutata 6,9 milioni di euro, rappresenta un passo strategico per Mondadori, che mira a consolidare la propria leadership nel settore del food e cooking. Benedetta Rossi è una delle creator più influenti in Italia, con una presenza significativa sui social media, vantando oltre 17 milioni di follower e 4 milioni di utenti unici mensili sul suo sito web. La sua popolarità è ulteriormente rafforzata dai suoi nove libri di cucina pubblicati con Mondadori, che hanno venduto complessivamente oltre 1,5 milioni di copie dal 2016 al 2023. Questo accordo non solo amplifica la portata del brand fatto in casa da Benedetta, ma integra anche le sue attività con quelle di Giallo Zafferano, un altro colosso del settore culinario. L'acquisizione prevede che Mondadori Media diventi il principale azionista di Waimea, mantenendo Benedetta Rossi e Marco Gentili, cofondatori della società, come soci di minoranza con il 49%. Nonostante la cessione del controllo, Rossi e Gentili continueranno a esercitare un ruolo attivo nella gestione delle operazioni quotidiane, garantendo così continuità e coerenza con il brand. L'accordo include anche opzioni per l'acquisto di ulteriori quote di Waimea, consentendo a Mondadori di aumentare la propria partecipazione fino al 70% entro il 2028. Questo meccanismo di partnership strategica è concepito per favorire una crescita sostenibile e sinergica delle due entità nel competitivo mercato del food e cooking. Vista anche l'importante esperienza digitale di Mondadori in ambito food, quando con Marco abbiamo preso la decisione di rafforzare la nostra struttura per consolidare quanto raggiunto finora e porre le basi per un'ulteriore fase di sviluppo, è venuto naturale pensare al gruppo Mondadori quale miglior partner industriale e strategico, afferma Benedetta Rossi. La combinazione delle forze di Benedetta Rossi e Giallo Zafferano potrebbe generare un pubblico potenziale di oltre 87 milioni di follower a livello globale, rendendo quest'alleanza una delle più potenti nel panorama culinario.